La focara di Novoli è prima di tutto un appuntamento di carattere religioso. L'assenza di tutti gli eventi collaterali rappresenta però un'importante opportunità, così come è stato nel 2021, per rimarcare e dare maggiore risalto al vero valore della festa spoglia, da concerti e da tutto ciò che ruota attorno alla focara di Novoli, che rappresenta un momento di riflessione e di vicinanza al santo protettore del paese. Sant'Antonio Abate vuole una festa tutta per lui a livello religioso e noi come comunità parrocchiali di Sant'Antonio Abate abbiamo preparato bene questo momento come tutti gli altri anni. Tutti i gruppi parrocchiali si sono impegnati tanti mesi prima a preparare questo evento con l'adorazione eucaristica animale dai vari gruppi, con anche la partecipazione al servizio d'ordine e con il curare tutti gli aspetti, tutte le celebrazioni eucaristiche che ci saranno. E poi c'è il padre predicatore, padre Antonio D'Amore, che è un oblato, Maria Immacolata. Quest'anno abbiamo pensato con lui il tema sulla stessa strada, camminando con Sant'Antonio Abate. Siamo in tema di sinodalità voluta da Papa Francesco. E con questo tema parleremo della fraternità, parlerà lui della fraternità intesa come un momento importante per la crescita del nostro essere cristiani.